Gabriele Mazzone, il PDL dovrà fare, a quanto sembra, una profonda riflessione ad Ortanova? Sì, la faremo. Mi dispiace per Moscarelle che ha operato benissimo. Forse il lungo impegno tenuto a Ortanova ha allogurato forse un po' la sua immagine, ma resta un grande amministratore e mi dispiace. Certamente faremo una riflessione, perché il successo del giovane candidato deve farci riflettere. Io credo che bisogna cogliere questa occasione per procedere ad un cambio generazionale a Ortanova. Faremo le nostre dovute riflessioni. Un altro risultato eclatante, qui ci allarghiamo alla sfera nazionale, merito alla quale chiediamo un suo commento e quello che si sta registrando a Milano. E a Milano, intanto io vorrei dire che il Pisapia non era il candidato del Partito Democratico. L'ha accettata a denti stretti, perché era il candidato proposto da Ventola. Punto. Il risultato non ci soddisfa, naturalmente. Vedremo poi quello finale, col ballottaggio, eccetera. Però non ci soddisfa al momento il risultato. Forse è dovuto anche agli errori fatti dalla campagna elettorale. Siamo apparsi estremisti di fronte ad un Pisapia amico della borghesia milanese. Credo anche questo bisogna considerare. Speriamo che certi errori possano essere corretti nel corso del ballottaggio. Quale lettura dobbiamo dare alle parole di Bossi quando disse hanno deciso di candidare la Moratti, se ne assumeranno le responsabilità? C'è bisogno di fare una riflessione anche su queste parole e sull'atteggiamento complessivo della Lega.